È il primo SUV Ford Performance in Europa. La nuova Ford Puma ST. Un'auto che unisce le incredibili dinamiche di guida che cerchi in un modello ad alte prestazioni alla praticità quotidiana offerta da un SUV. Tra gli emozionanti elementi del design esterno troverai un ampio spoiler posteriore, un doppio terminale di scarico, rifiniture delle porte in cristalline grey, un nuovo splitter anteriore per ridurre la resistenza aerodinamica. Una griglia anteriore è un diffusore aggiornati che conferiscono un aspetto più aggressivo e ottimizzano i flussi d'aria. La carrozzeria è disponibile in un'ampia serie di tinte, tra cui l'emozionante Mean Green, disponibile solo per la nuova Puma ST, qui nella versione con tette e specchietti retrovisori neri a contrasto. Gli esclusivi cerchi in lega da 19 pollici sono disponibili in un'ampia serie di finiture dotati di pneumatici Michelin estremamente performanti, progettati esclusivamente per la Puma ST. Primo SUV Ford Performance in Europa, Puma ST offre il perfetto equilibrio tra massima performance e grande efficienza ed eroga una potenza di 200 CV con 320 Nm di coppia, passando da 0 a 100 km all'ora in appena 6,7 secondi e raggiungendo una velocità massima di 220 km all'ora. L'auto è dotata della stessa trasmissione manuale a 6 velocità della Fiesta ST, dell'innovativo motore EcoBoost da 1.5 litri a tre cilindri Ford con iniezione di carburante ad alta pressione, doppia fasatura variabile delle valvole e di un nuovo turbocompressore in grado di aumentare la pressione più rapidamente, con minimo turbo lag, per un'esperienza di guida più reattiva. Il sistema di disattivazione dei cilindri migliora ulteriormente l'efficienza del carburante, mentre una valvola a discarico attiva esalta il suono più sportivo della Puma ST. Per migliorare l'esperienza di guida, la Puma ST è il primo SUV Ford dotato di un differenziale meccanico a scorrimento limitato che ottimizza la trazione anteriore per una migliore precisione nelle curve strette. Il sistema lavora in sinergia con il controllo dinamico della trazione per migliorare l'handling e ridurre il sottosterzo. La nuova Puma ST è dotata di un potente sistema frenante, grazie ai dischi freno anteriori e posteriori più grandi rispetto agli altri modelli Puma. Diverse modifiche apportate al telaio della Puma garantiscono che l'aumento dell'altezza di guida non comprometta le entusiasmanti dinamiche su strada della ST. I numerosi miglioramenti, come una barra di torsione aggiuntiva e un ponte torcente posteriore più rigido, controbilanciano il baricentro più alto tipico dei SUV per garantire stabilità. Le sospensioni appositamente regolate aumentano la robustezza e la stabilità per una maggiore agilità in curva. Il rapporto di sterzata dell'ST è del 25% più rapido rispetto agli altri modelli Puma, offrendo una reattività superiore e una sensazione di maggiore connessione alla strada. Siedi al posto di guida e troverai una serie di esclusivi elementi interni che caratterizzano la Puma ST. Per esempio, i sedili avvolgenti in recaro con marchio ST, il volante sportivo rivestito in pelle in stile sportivo con logo ST, pomello del cambio ST e battitacco con finitura lucida e logo Ford Performance, tappetini anteriori con marchio ST, cuciture metal grey a contrasto su sedili e cinture di sicurezza e l'esclusiva schermata di avvio di Ford Performance. La Puma ST è dotata di quattro modalità di guida selezionabili, eco, normal, sport e track. In questo modo potrai trasformare la tua Puma da un affidabile SUV cittadino a una straordinaria vettura da pista. Ogni regolazione ottimizza la performance dell'auto, modificando la mappatura del motore, l'acceleratore e la risposta di sterzata, nonché le impostazioni di trazione e controllo della stabilità. Potrai passare da una modalità di guida all'altra, mentre le informazioni chiave saranno visualizzate sul cruscotto digitale da 12,3 pollici. Il pulsante dedicato sul volante attiverà direttamente la modalità sport in qualsiasi momento. La Puma ST è disponibile con numerose dotazioni di serie, come sedili anteriori, volante e parabrezza riscaldati, sensori di parcheggio anteriori e posteriori e cerchi in lega da 19 pollici. Il tetto panoramico apribile e il portellone posteriore ad azionamento automatico sono disponibili come optional. I pacchetti opzionali aggiuntivi includono il Ford Performance Pack, con differenziale meccanico a scorrimento limitato e Launch Control. Sono invece di serie i fari a LED, il climatizzatore automatico elettronico, il sistema Ford Key Free e i cerchi in lega da 19 pollici. Praticità quotidiana è un'incredibile presenza su strada. La nuova Ford Puma ST